Camer, ristrutturazioni di interni, Via Aldomoro 38, Sondrio. Al terzo gradino del podio, un altro valtellinese, Robert Antonioli, per il campione, primo podio di stagione. Tra la settima e la nona posizione, altri tre azzurri sono Matteo Edalin, Nicolò Ernesto Canclini e Davide Magnini. Domenica poi, altro successo per il campione di Valfurva nella Vertical Race di Arinsal La Massana, dopo uno sprint da mozzare il fiato, Antonioli si è infatti aggiudicato il secondo posto dietro a René Bonnet. Tornando alla gara individuale di sabato, tra le donne, prima piazza per la francese Axel Gachemolare, quella italiana è la quarta posizione con un piazzamento ex-eco tra Alba De Silvestro e Giulia Murada. Ancora due italiane poi in settima e ottava posizione sono Mara Martini e Ilaria Veronese. E i giovani, per gli under 20, tra gli uomini è il francese Anselme Danven a guadagnarsi il primo gradino del podio, sesto piazzamento per Rocco Baldini, undicesimo per Marco Salvadori. Tra le ragazze invece prima la Svizzera Caroline Ulrich, quinto e sesto posto per le azzurre Noemi Junot e Silvia Berra. Prossima tappa di Coppa del Mondo in Svizzera a Morgent dal 27 al 29 gennaio. Si avvicina intanto quello che sarà l'appuntamento tutto valterinese con la Coppa del Mondo di sci alpinismo. Il 3 febbraio a Caspoggio con la sprint race, il 5 ad Albosaggia con la individual race del Valtellina Orobie. In gara oltre 15 nazioni.